Appena installato il nuovo Force Kraken della Garmin, il nuovo motore elettrico quindi lo andiamo immediatamente a provare. Iniziamo a provare il motore, siamo arrivati in una zona dove lo testeremo per bene, intanto il primo accessorio montato per tenere il motore fisso, si chiama proprio stabilizzatore che è compreso nel modello da 90 pollici mentre un optional per gli altri modelli. Questo poi si può anche posizionare vicino la testa tagliandolo e rifacendo semplicemente un buco passante quindi si sgancia semplicemente il motore, si preme il pedale e il motore è libero di scendere in maniera molto molto semplice. Grazie a tutti!